Continuo pure a giocare quanto vuoi passando da uno all'altro. Tanto io li sconfiggerò. Hai ragione. Forse mi serve un nuovo socio. Qualcuno contro voi ti divertirai a combattere. Guè, attento! Troppo tardi. Adesso divertiamoci. Ben, che cosa stai facendo? Musica per le mie orecchie. Ben! Vieni fuori, così potrò friggerti quel sedere pallido. Io ho una proposta diversa. Getta quell'arma, così mi funderò con te e conquisterò il mondo intero. Neanche per sogno. Allora ti conviene sperare che tua cugina sappia volare. La scelta è tua, eroe. Ben, ma che cosa sta succedendo? Il prossimo suono che sentirai sarà le urla di tua cugina mentre percepita di sotto. Ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Eliminate quei due. Avevamo fatto un patto, scarto di hanno. Avevi fatto un pacto con me e non con loro